Sono le 15 e 27 Sì, Maria è giustante All maggio Questa è una nuova opera della Vergine Maria La fede nel male Da potere al male Preparati a scoprire il sacro male Dal 20 maggio Di che cosa tagliamo? Questo è tutto ciò che esiste O c'è di più? Le risposte non sono sempre quelle che uno vuole sentire Ho avuto l'occasione di guardare la mia vita Finalmente al cielo Ciao, sono Marco Masino Un saluto particolare a tutti gli amici di Radio Studio X Ciao Nuo e free Ciao Ciao Grazie per la visione!